Al via oggi a Genova il salone nautico primi segnali di ripresa del settore i cui effetti si attendono con fiducia anche nel distretto di Lavagna messo in ginocchio dalla crisi dell'ultimo decennio. Festa a sabato a Sesti Levante per l'apertura della pista ciclopedonale e del parco avventura sugli alberi al parco Mandela. Continuano i lavori per il completamento entro il 2018 di tutte le strutture. La Liguria ad Assisi per riaccendere la lampada sulla tomba di San Francesco, pellegrinaggio delle diocesi della regione ecclesiastica il 3 e il 4 ottobre è ancora possibile prenotarsi. Ascoltare la voce delle campane su costruzioni che hanno sfidato il tempo, la Basilica di Santo Stefano a Lavagna ha aderito alla prima giornata nazionale dei campanili aperti. Il Villaggio Basket si prepara alla nuova stagione agonistica con una novità, la formazione di una squadra femminile. I maschi affronteranno il campionato di serie D rafforzati nell'organico. Buongiorno a tutti e bentornati al TG13. Questa mattina a Genova ha preso il via il 57esimo Salone Nautico Internazionale. Da più parti è stato accolto come l'edizione della ripresa e della ripartenza del settore. Se la ripresa c'è a Lavagna deve ancora farsi vedere ma noi l'attendiamo con fiducia e speranza. Questo è il commento del presidente del distretto della nautica del Tiguglio, Cesare San Germani. Rispetto agli anni d'oro ad oggi nel porto di Lavagna sono rimaste soltanto un paio di aziende attive che continuano a risentire della forte crisi che ha interessato il comparto nell'ultimo decennio. Sentiamo. Qui a Lavagna come sta il settore? Lavagna per adesso è ancora in una situazione di attesa. Ritengo comunque che prima o poi questa ripresa si faccia sentire anche qua. Anche perché se non ci fosse la ripresa a questo punto, visto che siamo rimasti quattro gatti, la cosa finirebbe malamente poi alla fine. In questi anni si sono aperte aziende, posti di lavoro, anche professionalità comunque? Eh sì, tanti che erano artigiani sono stati costretti a chiudere la loro attività perché tartassati dal fisco. Le aziende purtroppo, visto il landazzo del porto di Lavagna, hanno dovuto diminuire il personale, sono diventati invece di industriali, sono diventati dei grossi artigiani e poi alla fine è tutta gente che fa del gran rimessaggio e non attività vera e propria come c'era 50 anni fa da queste parti. Da Genova oggi che segnali arrivano? Ma io dovevo andare a Genova a sentire proprio questi segnali che mi aspettavo che ci fossero e mi auguro comunque che ci siano, è che loro ragionano con i grandi numeri, ragionano con le grosse aziende che ci sono comunque rimaste in Italia perché siamo ancora una buona realtà dal punto di vista nautico, però non è così spalmata fino al minimo che io ormai mi considero il minimo, noi siamo grandi dal punto di vista di superficie perché siamo il cantiere forse più grande che c'è a Lavagna, però alla fine siamo diventati piccoli, ci basta poco per sopravvivere ma anche quel poco bisogna andarsela a cercare. La decisione del Tribunale delle Acque sul progetto di rafforzare il muraglione sulla sponda lavagnese alla foce del fiume Entella sarà presa nel 2018, il rinvio è stato fissato al 14 marzo prossimo, ricordiamo che il ricorso amministrativo era stato formulato dall'avvocato Daniele Granara per conto del comitato giù le mani del fiume Entella, dunque per ora resta tutto fermo. È tutto pronto a Sestri Levante per l'apertura della pista ciclabile del nuovo parco Avventura, sabato prossimo alle 15, subito dopo la partenza della gara di trial collegata all'Anderson Run, le prime due importanti opere inserite all'interno del parco Mandela verranno aperte al pubblico e rese fruibili ai cittadini e ai turisti in un pomeriggio di festa e di sport. La presentazione. Una grande festa dove coinvolgeremo tante associazioni sportive e recreative del territorio e quel giorno ci sarà un open day dove gratuitamente i bambini e quanti lo vorranno potranno provare queste nuove strutture. È un primo tassello di questo grande progetto? Sì, in realtà è un secondo considerato che si va ad aggiungere alla parte di parco preesistente, in questo modo riusciremo anche a collegare ancora di più i percorsi ciclabili del nostro territorio e subito dopo l'apertura partiranno i lavori per il completamento di questo grande parco, quindi con la realizzazione della pista di atletica, con la realizzazione dell'impianto per le biciclette, del pump track, quindi per poter provare questi saliscendi in bicicletta per bambini e per adulti e anche con la realizzazione della grande arena verde che diventa uno spazio per lo svago e per relax ma anche diventa uno spazio per ospitare spettacoli e grandi eventi all'aperto. Quali sono i capitoli di spesa per questo primo intervento e per il completamento dei lavori? Questo primo intervento è stato realizzato con circa 200 mila euro e il completamento dei lavori prevede l'intervento di altri 500 mila euro già a bilancio e già disponibili, abbiamo anche i bandi già di fatto messi in opere realizzati e l'inizio dei nuovi lavori si prevede a partire dal 25 di settembre, da quella settimana, quindi circa 500 mila euro per il completamento. Ricordo che l'impianto di atletica verrà realizzato grazie al sostegno di Arinox, l'azienda del nostro territorio che ha deciso di fare questo regalo alla città realizzando questo impianto con tutti i materiali e le attrezzature che sia il CONI che l'Associazione Nazionale dell'Atletica Leggera ritengono opportune per poter definire poi l'impianto, un impianto sportivo a tutti gli effetti. Sarà traslata oggi nella chiesa di Sant'Anna a Rapallo la salma di Franco Orio, il presidente della Portofino Coste scomparso martedì sera all'età di 79 anni. Nella stessa chiesa questa sera alle 19 sarà recitato il rosario mentre domani alle 15 sarà celebrato il funerale. Per desiderio della famiglia le offerte raccolte saranno devolute al completamento delle opere parrocchiali di Sant'Anna, opere dedicate ai giovani. Ogni anno i comuni di una regione italiana offrono l'olio per riaccendere la lampada votiva che arde sulla tomba di San Francesco. Quest'anno pellegrina ad Assisi sarà la Liguria. L'accensione si ripete dal 4 ottobre 1939. Per favorire la partecipazione dei fedeli a questo momento di preghiera e devozione è stato organizzato un pellegrinaggio il cui programma si snoderà dal 3 al 5 ottobre prossimi. Lo vediamo nel dettaglio martedì 3 ottobre la partenza al mattino in Pullman da Chiavari con l'arrivo a Santa Maria degli Angeli ad Assisi per l'ora di pranzo. Nel pomeriggio il trasferimento alla Basilica dove saranno celebrati i Vespri con la liturgia del transito nel luogo dove Francesco morì la sera del 3 ottobre 1226. Mercoledì 4 il presidente della conferenza episcopale Ligure, il cardinale Angelo Bagnasco presiederà la messa nella Basilica di San Francesco concelebrata dai Vescovi di tutte le diocesi della Liguria. Prima del Gloria l'accensione della lampada votiva da parte del sindaco della città capoluogo di Regione. Al termine ci sarà il saluto del ministro regionale dei Frati e del presidente della Regione. Giovedì 5 ottobre infine visita guidata alla Basilica di San Francesco e alla Basilica di Santa Chiara. Dopo il pranzo il rientro a Chiavari. Sono ancora disponibili alcuni posti, dunque chi vuole prenotare può farlo entro martedì 26 settembre. Occorre rivolgersi all'agenzia La Via in via Tommaso Reggio 45 Rosso a Genova. Potete telefonare allo 010 25 43 48 9 oppure potete scrivere all'indirizzo email laviachiocciolabrevivet.it. Cambiamo tema, anche il nostro territorio ha aderito alla prima giornata nazionale dei campanili aperti. Curiosi e appassionati ne hanno approfittato per scoprire l'antica arte campanaria. In diocesi l'iniziativa si è svolta a Lavagna. Siamo andati a vedere. Visitare un campanile e salire su costruzioni che hanno sfidato il tempo, godere di un panorama straordinario ma anche ascoltare la voce delle campane e conoscerne la storia tramandata di generazione in generazione. In occasione della prima giornata dei campanili aperti, promossa dalla Federazione Nazionale dei Suonatori di Campane, la Delegazione Ligure ha aperto al pubblico la torre destra della Basilica di Santo Stefano a Lavagna. I visitatori che si sono alternati in piccoli gruppi durante il pomeriggio di domenica hanno potuto conoscere l'operato dell'associazione locale, la loro storia e assistere alla dimostrazione di un concerto secondo il suono alla Ligure. È un'occasione per valorizzare l'antica arte campanaria che esiste in Italia con i vari usi e sistemi, per farci anche conoscere perché noi come associazione da diversi anni operiamo sul territorio regionale, in particolar modo qui nel Tiguglio e Genovesato dove siamo più numerosi. L'associazione Campanari Liguri ha preso vita nel 2005, negli anni il gruppo si è allargato coinvolgendo numerosi giovani appassionati. Da piccolo avevo una paura matta delle campane, avevo paura di passare su questi campanili e poi non so cosa mi sia scattato, mi ha presa la passione guardando sia video in rete e cose varie ho conosciuto poi qualcuno dell'associazione e ho cominciato anch'io a suonare. Cosa provi quando suoni? È bello, è divertente perché si fa una cosa bella anche se a qualcuno non piace, a qualcuno dà fastidio, ma è bello specialmente stare in compagnia, in amicizia e poi si suona per il Signore. Ricorre oggi la ventiquattresima giornata mondiale dell'Alzheimer. In questa ricorrenza saranno attivati in Liguria i primi due centri per i disturbi cognitivi e le demenze che avranno sede nell'Asle 3, negli ospedali Galliera, nella sede periferica di Via Sarotti e all'ospedale Padre Antero Micone di Sestri Ponente. Entro la fine dell'anno, comunica la Regione, sarà attivato il terzo centro nel Levante Cittadino presso l'ospedale Policlinico San Martino, mentre entro il 2018 le altre Asle attiveranno i propri centri con le relative sedi periferiche, questo per dare una risposta ai crescenti bisogni, soprattutto nella nostra Regione. Ora l'Economia, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet una guida dedicata agli italiani che lavorano all'estero. Il documento illustra alcuni concetti importanti per non incorrere in sanzioni, visto che ormai lo scambio di informazioni tra i Paesi rende sempre più facili gli incroci dei dati e le emissioni di avvisi di accertamento per comportamenti errati. Vediamo allora la scheda del giorno. Tutti gli italiani che lavorano all'estero e che non sono iscritti all'Aire, l'anagrafe degli italiani residenti all'estero, sono fiscalmente residenti in Italia, pertanto devono presentare ogni anno la dichiarazione e pagare le imposte sui redditi ovunque prodotti anche in un Paese straniero. Per le tasse si considerano fiscalmente residenti in Italia le persone che per la maggior parte del periodo di imposta, cioè per almeno 183 giorni all'anno, sono iscritte nelle anagrafi comunali della popolazione residente in Italia, oppure hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza, oppure ancora si sono trasferiti in uno dei Paesi a fiscalità privilegiata, salvo prova contraria. Per evitare la doppia imposizione, in Italia e nel Paese estero dove producono reddito o hanno beni, sono state stipulate dallo Stato italiano con molti Paesi esteri delle convenzioni internazionali che stabiliscono chi paga e dove. Lo Stato italiano riconosce un credito d'imposta per le tasse pagate all'estero, sempre che venga presentata la dichiarazione dei redditi in Italia. Nel caso in cui gli italiani non iscritti all'aere abbiano presentato la dichiarazione dei redditi in Italia, omettendo però di indicare i redditi prodotti all'estero, per non perdere il diritto di usufruire della detrazione delle imposte pagate oltre confine, possono presentare una dichiarazione integrativa e rimediare così agli errori del passato. Se invece non hanno presentato alcuna dichiarazione, non possono effettuare il ravvedimento operoso. Per regolarizzare la propria situazione si potrà soltanto aderire al meccanismo della cosiddetta Voluntary Disclosure in scadenza il 30 settembre 2017. Un incontro preliminare si è svolto tra il sindaco di Casarza Ligure Giovanni Stagnaro e l'assessore regionale all'agricoltura Stefano Mai per affrontare il tema dei VAB, il volontariato antincendio boschivo. Casarza Ligure fa parte dell'unità intercomunale della Val Petronio insieme ai comuni di Sesti Levante, Castiglione, Chiavarese e Moneglia. I VAB rappresentano una risorsa preziosa per il territorio che nelle intenzioni degli amministratori deve essere valorizzata attraverso una più efficace e puntuale azione di coordinamento. Per parlare di tutto questo è stato indetto un incontro pubblico che si terrà mercoledì 11 ottobre alle 20.45 nell'auditorium di Villa Sottanis a Casarza Ligure dove sarà presente anche l'assessore Mai. La Guardia di Finanza cerca otto musicisti per la sua banda musicale. Possono partecipare tutti i cittadini italiani, anche se già appartenenti a corpi militari, che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non abbiano superato il giorno del compimento del quarantesimo anno di età. Questo limite è elevato di cinque anni per gli militari delle forze armate, delle forze di polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in attività di servizio. È richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi di laurea previsti dalle università statali o legalmente riconosciute. La domanda di partecipazione dovrà essere compilata attraverso la procedura informatica, quindi solo attraverso internet. Occorre andare sul sito www.gdf.gov.it e cercare nell'area concorsi online. Ora la linea alla rassegna stampa con i titoli dei quotidiani in edicola quest'oggi e oggi anche con la rassegna del cittadino di Genova. Vediamo. La guerra e la pace dei due mondi. Questo è il titolo scelto da venire. Mentre si acuisce il braccio di ferro tra gli Stati Uniti di Trump e la Corea di Kim, all'ONU il processo di disarmo fa un passo avanti. Contro le bombe nucleari 122 paesi, l'Italia non c'è. E invece c'era nel palazzo di vetro di New York Gentiloni che parla all'Assemblea. ONU in Libia e no ai muri. Queste le sue parole. Il Messico piange, le vittime dei crolli, strage di bambini, già più di 200 i morti per il terremoto messicano. E parla uno dei magistrati che indagò sull'attentato a Giovanni Paolo II. Martella dice Vaticano vittima, Orlandi rapita dalla Stasi. Madrid contro la secessione arrestati 14 funzionali del governo Catalogna in rivolta per il referendum. Stesso titolo lo troviamo sul secolo decimo nono che scrive ammanettato il voto. Blitz della Guardia Civil, arrestati 14 altri dirigenti del governo locale. Madrid contro il referendum. A Barcellona migliaia in piazza per la protesta. E poi un fatto avvenuto a Zoagli nel gennaio 2015. Lasciò morire l'amico in mare, chiesti sette anni, ma se condannato avrà uno sconto di pena. La tragedia di Zoagli, un rapallese a giudizio. Carigio e i sindacati alzano le barriere contro gli esubili del piano di rilancio. E poi lo sport in centropagina. Il Genoa non sa più vincere 1-1 con il Chievo. 0-0 della Sampdoria a Verona. Il palo ferma la Sampdoria al 92esimo. E poi c'è la morte di Jack Lamotta. Ultimo gong per Lamotta. Toro scatenato tra pugni donne e amici pericolosi. All'interno del secolo, nel Levante, tassa non dovuta, partono i controlli. Il caso degli alloggi sul portale booking.com chiedono ai turisti di pagare l'imposta di soggiorno che non c'è. Al lavoro le municipali di Santa Chiaveri-Rapallo, i sindaci stop alle truffe. Il web non può essere un far west, a dirlo è federalberghi. E sempre all'interno del secolo XIX, ma da Chiaveri, il comune dice no a Gulliver. Oggi confronto con Ascom e Civ. Chiaveri respinge la variazione di destinazione di via Gagliardo. Ratto amplieremo la perimentazione del centro storico. Ora la linea Genova per la rassegna stampa sul settimanale Il Cittadino. Il Cittadino numero 32 di domenica 24 settembre. In apertura Chiesac ascolta ai giovani. Si conclude la missione diocesana gioia piena riservata ai giovani con due giorni di eventi al Porto Antico alla presenza del Cardinale Bagnasco e di Monsignor Nicolò Anselmi, vescovo ausiliare di Genova. Di spalla formazione dei catechisti. Al via anche in questo anno pastorale il consueto corso di formazione organizzato dall'ufficio catechistico diocesano. E ancora al centro l'omaggio a Padre Semeria, che viene ricordato a Genova nel 150esimo della sua nascita con un convegno in programma sabato 23 settembre. In taglio basso le tre iniziative editoriali del Cittadino. Raccolte in un DVD quasi 500 omelie pronunciate dal Cardinale Siri nel suo ministero episcopale. L'annuario diocesano 2017 e ancora il libro fotografico che ripercorre la visita di Papa Francesco a Genova. Ci sono aggiornamenti di cronaca, andiamo in redazione. Dov'è pronto Andrea Capitani? A te Andrea. Sì, buongiorno Maurizio, buongiorno a tutti. La cronaca dicevi, prima di tutto uno scontro tra due auto si è verificato intorno a mezzogiorno in via Annuti. Siamo a Casarza Ligure. Una delle due vetture coinvolte si è ribaltata su un lato. All'interno si trovavano un uomo e una donna che sono stati estratti grazie all'intervento dei vigili del fuoco di chiave. Vediamo proprio alcuni momenti dei soccorsi. Sul posto anche i medici del 118 coadiuvati dai volontari della Croce Rossa di Riva Trigosa e i volontari del soccorso di Sestri Levante. Ancora incerta la dinamica dell'incidente. I due sono stati trasportati in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova con l'elicottero dei vigili del fuoco che è atterrato nei pressi della piazzola all'uscita del casello di Sestri Levante. Poi invece un altro intervento, questa mattina sul presto, perché un uomo, una giovane di 30 anni, è tentato di salire al vorro su un treno diretto a Genova che era però già in movimento. Nel farlo è scivolato e caduto, sbattendo violentemente la testa sul marciapiede del binario, ma rimanendo anche incastrato tra il marciapiede e il coinvolio. Fortunatamente non è rimasto colpito dalle ruote del treno, protagonista, dicevamo, un giovane sui 30 anni. Qualcuno si è accorto dell'incidente e nonostante il treno fosse in movimento lo ha fermato tirando il freno di emergenza. A soccorrerlo i vigili del fuoco di Chiaveri, che hanno aiutato l'uomo ad essere estratto tra il marciapiede e il treno. E i medici del 118, che ne hanno deciso il trasferimento al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto le indagini, per le indagini anche la polizia ferroviaria di Sestri Levante. E per il momento è tutto, a te la linea. Grazie Andrea, siamo così allo sport. Sta per iniziare una nuova stagione agonistica per il villaggio basket. E quest'anno con una novità, la formazione di una squadra femminile. Le ragazze della società Biancorossa debuteranno nel campionato di serie C regionale sabato 21 ottobre, mentre la squadra maschile inizierà un nuovo campionato di serie di regionale sabato 7 ottobre. Come momento di condivisione e incontro, prima del fischio d'inizio è stata organizzata una cena. Eravamo presenti, vediamo. Si parte con una nuova stagione e con la novità del campo femminile. Sì, è una sorpresa, devo dire la verità, anche per me. Devo dire, queste ragazze che si sono presentate dicendomi vorremmo giocare, fare qualcosa con voi, mi ha fatto piacere. Quello che noi stiamo cercando di mettere insieme non è perché sono il presidente o sono il dirigente, no, il villaggio basket è fatto da tutti noi, da tutte queste persone che questa sera erano qua e quelle che mancavano. La nostra cosa bella è questa, vogliamo entrare in questa grande famiglia. Ecco, la cosa bella è questa. Riparte il basket femminile al villaggio? Sì, 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 è una bella esperienza quest'anno. La squadra è tutta completamente nuova e speriamo di far bene. Abbiamo iniziato, abbiamo buoni obiettivi e speriamo bene, ecco. E' già cominciato gli allenamenti? Sì, sì, abbiamo cominciato settimana scorsa con la preparazione atletica e quindi che serve, soprattutto andando avanti con l'età. Siete un bel gruppo, ho visto allegria a tavola. Sì, 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 siamo un bel gruppo, tante giovani e quindi speriamo che anche come minuti di durare. Quindi, no, 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 abbiamo grandi aspettative. Si sta dicendo i rumors che farete una squadra forte? La squadra è composta da giocatori che hanno già fatto campionati di Serie D e alcuni addirittura campionati di C2, la C Silver, tanto per intenderci, vincendola addirittura. Questo non si divina che siamo i favoriti. Siamo una squadra che dovrà amalgamarsi, dovrà lavorare come stanno già facendo, però ci vorrà un po' di tempo per cercare di fare in modo che questi ragazzi si capiscono e giochino insieme, è una buona palacanestra. Bene, siamo giunti in conclusione. L'appuntamento con il telegiornale è questa sera alle 19.15 con Tigui Oggi. Continuate a seguirci però sul sito www.teleradiopace.com. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti.